Per acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoinsland.com Con il codice GRANANAS avete l'8% di sconto Now, say my name Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di GRANANAS E siamo qui oggi con il nuovo episodio del Road to Division 1 Perché parli così, tutto, no? Che episodio del Road to Division 1 Fuck a bitch E come potete vedere, abbiamo comprato Call Abbiamo pagato un fottiglio, tipo 5.900, 6.000 5.900, quindi la squadra comincia a prendere forma Esattamente, con Taiderci ci è veramente... Abbiamo una riserva di buon'avventura Che già buon'avventura si suono, che sia forte esterno Anche se è un gran giocatore nella realtà, però esterno è un po' schifo Esattamente, quindi possiamo... Al primo tempo che sono andato, io sono andato tre punti La partita l'avete vista con la precedente è fin da 4 a 3 Abbiamo trovato un avversario, forse... Sì, sbam, col Killmarno Vai, vai, quanto è bella la terza maglia del cosa Killmarno De... la seconda maglia del City, santo Dio, come veniva Però c'è l'avversario, bam! Eh, va bene così Ci fa un culo così Ma come potete... Vabbè, pure quell'altro ci fa un culo così Eh, ma questo c'ha Lennon C'ha Bentechè Quello c'ha Bervogna C'ha Bervogna C'ha Bervogna C'ha Bervogna 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 B звучit Veight Cazzo C'ha Bervogna B ea direttamente al mondo c'è l'ha di fare il bene ma un fido alleato grande l'ho visto l'ho visto l'ha visto un po' vede la pista o strada di ramiato da bene che cos'era 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 nooo ma come fai a sbagliare ancora del genere come fai c'è un po' di cui mi non è in carrozzino lo segnava un atto nooo ma cazzo come l'ha guardata mamma con la notizia di circolare contro la visita con migliori la parola per forza tristissimo ecco il mezzo da un po' ci sente che c'è mannaggia e fa perchè non muore male astrippi che cazzo di farla un uomo insomma si vuole che c'è fatto chiesto taglio chiesto taglio 15 15 al culo da letto la culo da letto si un culo ficca da po' di venire sbrigate dai golle vecchio trapano dai vedete che cazzo fai oddio ballo è entrata ma come? come possibile? che è successo? ah da solo autogol vabbè così infatti c'è buono batte in mezzo in mezzo mattia 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 carica al destro mattia vabbè non te le parano tutte mannaggia cioè tu devi tirare per puntare al calcio d'angolo perchè sennò è impossibile e poi calcio d'angolo non puoi segnare cioè a meno che si fanno la go goal non puoi segnare che te fai? che te fai i gesti? mi fricate perera il cross in mezzo No attura no tira vecchio trafano pepe He No, 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 no Certo E ma che ca Porca Che ca Che potreste vo' farla bene Vai Oh, oh E' lato Ma che ho fatto? Marco Rossi Ma che ho fatto? E' lato Ma che ho fatto? Ma porco dici perché non ci credo No, no Porco dici Pensavo la via La via si La prendessi io E E dai Ehi ma che cazza E' l'esto caga E no E no No No, no, no E me è lato No, 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 no Si, 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 si 1-2 Se scatti magari qualcosa possiamo fare Che dici? Che dici? Finisce qua al primo tempo 2-1 Grandissimi i gol del Grana Steam Subito Subito Dari l'aggressivo Perde palla Ventechè lancia Lennon Lennon non si sa come la stoppa Call Check Call Race Barclay Il cross in mezzo Uh di testa Assigna Cioè ha segnato di testa Ma sul serio? Vabbè ventechè Cioè tu dottano gli pesi che mano per le Due minuti di partita Ho capito eh Quei due minuti di partita Cioè poterà stare pure il mio gioco dove te fico del mondo Piava il gol eh Due minuti di partita Vediamo partì a destra La bussa Ci riprova Senza successo Guardalo Che due minuti di partita Guarda Meno male Meno male che perile forte Per cazzo eh Vai Rossi Vai aggressivo Rossi Pure se non lo sei aggressivo Provacce La palla per destra Destra stop è malissimo Palle mamma mia Sempre così questo fa Sempre la solita cosa Ma me l'ho chiuso Ma come l'ho chiuso? Blind questo non può tirare perché cieco Da ma perché sempre così? Barclay 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 mamma mia Le skill Le skill a fondo campo sono molto utili Molte e portate Perreina Perreina a destra Destro va Destro Va Destro si accentra Destro il Tiro Oddio Rossi Oddio no il 3 a 3 no eh il 3 a 3 no eh il 3 a 3 no eh ci fa la grazia mente che mente che mente che per in per in mamma mia finora il migliore del portiere del campionato col mamma mia mamma mia che giocatore col per eira di nuovo la palla per per destro 1 2 con Rossi la faccia col 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 cazzo mamma mia che brutto tiro novantesimo 3 minuti di recupero ma per chi? 3 minuti di recupero e il Granastime fa una cazzata Barclay Barclay vuole andare sul testo mamma mia Angelo oh bonna finisce la partita 3 a 2 un'altra vittoria un'altra vittoria 2 su 2 ragazzi 2 su 2 non ci ferma più nessuno che squadrone sono una squadra fortissimi che squadrone ok comunque anche con il seguito è finito qui noi ci vediamo domani stessa ora stessa giorno stessa giorno ciao in amore pagina facebook like bella ciao 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 ciao